Allora, l'ipertrofia prostatica benigna o iperplasia è un aumento di volume della ghiandola prostatica che fisiologicamente si verifica nel soggetto, ovviamente maschile, perché la prostata è una ghiandola prettamente maschile. Questo comincia, questa situazione, a svilupparsi dopo i 40 anni e ovviamente può avere delle evoluzioni differenti a seconda dei soggetti, chi resta sintomatica, chi dà dei disturbi minimi, chi richiede un trattamento farmacologico, chi invece necessita addirittura di un trattamento chirurgico. I disturbi sono quelli conosciuti, ahimè, dalla stragrande maggioranza della popolazione ultrasettantenne, cioè dall'aumento della frequenza minzionale alla difficoltà ad urinare fino alla difficoltà a vuotare completamente la vescica e lì normalmente poi interviene in qualche modo l'urologo con le proprie armi. Tra queste armi, appunto, come ho detto prima, dalla terapia farmacologica fino a quella chirurgica, oggi si inserisce questo trattamento che possiamo definire veramente mini-invasivo. Sono veramente orgoglioso e ringrazio l'ASL e la direzione strategica di averci in qualche modo fornito questo strumento. Si tratta di una tecnica rivoluzionaria, cioè praticamente una tecnica dove noi attraverso il vaporacqueo riusciamo a ridurre la sintomatologia del paziente e per cui tutte quelle persone che o non possono prendere farmaci o perché sono giovani e quindi non sposano bene l'idea di una terapia farmacologica o perché vogliono in qualche modo procrastinare nel tempo l'intervento chirurgico, noi abbiamo questo trattamento alternativo che ci permette di ridurre la sintomatologia, in molti casi addirittura di togliere la terapia farmacologica, preservando completamente quella che è la funzione riproduttiva del paziente, quindi mantenendo l'eiaculazione che è una delle problematiche che spesso e volentieri con la terapia farmacologica o con la terapia chirurgica il paziente viene a perdere.